Caro cittadino, io voglio rivolgermi a te, a te che magari stai in vacanza, che pensi che delle riforme costituzionali non te ne frega niente e non ti cambieranno la vita. Sbagliato! Queste sono la cosa più pericolosa che ti potrà mai capitare. Con queste riforme costituzionali, che tu credi che non faranno niente, la tua vita cambierà completamente. La tua sovranità, la tua possibilità di scegliere i tuoi rappresentanti verrà rasa al suolo, verrai comandato da qualcuno che non ti chiederà più il permesso. Ti troverà in Parlamento gente che è stata messa lì da qualcuno che tu non sai neanche chi è, che saranno magari dei condannati, che saranno degli inquisiti, che sarà gente che non risponderà più a nessuno. Tu avrai perso completamente il controllo, ti avranno tolto la democrazia. Ricordati che quando ti tolgono la democrazia poi ti tolgono tutto il resto perché la democrazia è una garanzia. Niente democrazia, niente garanzia. Ricordati, svegliati dall'ipnosi. Svegliati!